Buongiorno a tutti, come avete letto dal titolo, purtroppo devo darvi una brutta notizia, niente di preoccupante, però devo comunicare che le live di stasera e quella di domattina purtroppo sono disdette per motivi prima personali e poi lavorativi, perché stasera ho il compleanno di mia cognata e ovviamente non voglio e non posso mancare e domattina ho il mio turno domenicale lavorativo, capita una volta tanto, ma quando tocca a me devo ovviamente adempiere ai miei impegni, quindi ragazzi sono molto molto dispiaciuta, molto molto mortificata, sono anche un po' triste oggi ragazzi, un po' giù di morale, ma passerà sicuramente presto, noi ci vediamo se vorrete nella live di martedì sera alle ore 21 e niente, vi auguro un fantastico un sereno fine settimana a tutti e ovviamente io vi lascio sempre il mio sorriso, ciao!